C'è un particolare che non è sfuggito agli investigatori che indagano sull'omicidio di Luana Finocchiaro, la donna di 41 anni trovata strozzata nella sua abitazione di Mister Bianco. Vicino al corpo senza vita della donna, trovato al lato del letto, c'era un biberon pieno di latte. Biberon che la mamma non ha potuto dare al suo piccolo di 4 anni che era in casa, forse in un'altra stanza, al momento del delitto. Il bimbo è anche figlio di Vincenzo Di Mauro, il sorvegliato speciale di 37 anni che i carabinieri hanno fermato e portato in carcere. Per domani, a Piazza Lanza, è stato fissato l'interrogatorio di garanzia. Domenica Luana e Vincenzo si erano visti e avevano trascorso del tempo insieme nell'abitazione di via Giuseppe Garibaldi. Nel pomeriggio avevano anche avuto un rapporto sessuale.